Perché uno gira per la città, è un bel ecco qua dentro, mi viene un po' di fare il papa, è una cosa tanto bella quando uno arriva e sente questa voce che viene, è bellissimo. Allora, no, sono qui con Costanza, Costanza, è questo? Questa cosa qui? Perché sono all'interno praticamente di? Dello studio Tommaseo. E' bellissimo, è così una galleria, è tutta arte questa, non sono errori tecnici, questo è tutto un movimento, ci sono dei movimenti e c'è un suono perché poi l'arte arriva quando uno ascolta. Sì, esatto, è un'installazione che ha vinto un concorso di arte contemporanea per giovani artisti europei. Io non ci avevo capito niente, 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 ma proprio ho venuto qui e ho detto cosa sarà? E invece ci sono delle installazioni artistiche stranissime, particolari, che sono avanti rispetto a questo vecchietto qua. E suono, robe in movimento, robe incredibili e tutto questo si trova, cioè abbiamo parlato con Costanza, Costanza, allora ti faccio la voce di Maurizio Costanza, perché così, perché sei Costanza? Allora abbiamo parlato con Costanza, è molto bello eh? E abbiamo parlato con Costanza, di questa installazione qua, è Costanza, lavora qui e l'associazione si chiama? Trieste Contemporanea. Portiamo l'arte nel mondo, cavolo, che fa bene, questi sono ragazzi bravi eh, giovani artisti, tadam!